Scusa, faccio tardi a biochimica. Ok. Non sai come mi chiamo, vero? Ti chiami Stanford. Dovrei sbatterti fuori a calci. Come fai ad andare a una festa, a presentarti a qualcuno? Amiga Ritter, ma preferisci Emi. Sei nato a Orinda, tuo padre nel settore immobiliare, tua madre non beve più da dieci anni. Specializzazione? Direi piffero. Sicuro? Eppure chissà perché mi ricordavo il piffero. C'è l'amore alla jolie fille e la me de côté. Francese. Oui. Specializzazione in francese. E la tua? La mia? Non ne ho una. Non l'hai ancora scelta? Non studio più. Stai scherzando? No. E allora, dove hai preso il diploma? L'ho preso alla scuola elementare William Taftan. Sul serio? Santi, non avrai mica 15 anni per caso? No. Tu non hai 15 anni, vero? No. E allora che fai? Sono un imprenditore. Sei disoccupato? Io non direi così. E come diresti? Che sono un imprenditore. E che hai impreso ultimamente? Ho fondato una società su internet che permetteva alla gente di condividere musica senza pagare. Cioè? Tipo un hamster? Esattamente tipo un hamster. Che vuoi dire? Che ho fondato un hamster. Sean Parker ha fondato un hamster. Molto piacere. Sei Sean Parker. Ah, ecco. Si è invertita la... Ruota? Ruota. Vedi come gira? Sono stata a letto con Sean Parker. Sei stata a letto sopra Sean Parker. Sei uno strano miliardario. Tecnicamente no. Ah, no? Sono al verde. Non si fanno soldi con la musica gratis. Meno che mai se ti citano tutti quelli che vanno al gremio. Mi fa sballare questa storia. Grazie, sei molto carina. Scusa, mi faccio la doccia. Devo andare a lezione. Di biochimica, anche se ti specializzi in francese, ti chiami Amy. Promosso. Sono uno che si impegna. C'è... C'è del succo e anche altra roba. Prendi quello che vuoi. Prendi quello che vuoi.